benvenuti alla resegna stampa di oggi giovedì 26 ottobre 2017 siamo in diretta buongiorno a tutti benvenuti e cominciamo con il santo di oggi il santo di oggi è una santa una santa che ha un uomo un po difficile ma ci proviamo beata celina borzeca ma è anche tra i tanti santi che la chiesa ricorda nella giornata di oggi anche sant'armando per esempio armando il vescovo di fano armando trasate ai quali facciamo naturalmente i nostri auguri di buono nomastico il sole è sorto le 7 36 tramonterà il 18 08 il cielo sarà sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento per la giornata di oggi domani peggiora un po avremo precipitazioni dalla serata con brevi rovesci sparsi sul settore centro meridionale le temperature minime saranno in lieve diminuzione mentre quelle massime aumenteranno ci saranno anche venti moderati anche vento forte nelle zone dell'entroterra e poi il miglioramento che riprenderà dalla giornata di sabato soltanto alcune precipitazioni brevi rovesci sabato mattina però poi si dilegueranno e quindi il resto della giornata sarà sereno su tutta la regione le temperature sono in diminuzione il tempo sarà buono comunque anche per la giornata di domenica e l'inizio della prossima settimana oggi le città più calde saranno san benedetto del tronto sopra i 20 gradi comunque durante la giornata intorno alle 2 del pomeriggio san benedetto del tronto poi fermo che supereranno insomma e ascoli piceno 22 23 gradi i giornali resto del carino corio adriatico edizione di pesaro cominciamo da pesaro resto del carino questa è la prima pagina strada insanguinata il titolo più incidenti più morti in un anno micidiali rettilinei fuori i rettilinei fuori città e le distrazioni tecnologiche del traffico molti incidenti avvengono purtroppo a causa della distrazione dei conducenti che guardano il cellulare piuttosto che il volante o comunque no volante la strada invito al museo per halloween questa è terribile questa notizia un rito voodoo per i bambini è un'iniziativa pessima del comune di pesaro i genitori protestano contestano lo vedremo tra poco nelle pagine interne e poi altre notizie dal resto del carlino intervento con la ruspa giù la baracca abusiva vicino al cimitero di pesaro sgomberati due campi rom la ditta sbaglia i cartelli rimozioni a suo carico annullate anche le multe mentre ex amga fatemi fare la terza torre e vi darò il giardino dice il proprietario di edil group mi ha convinto di essere gay e lo psichiatra finisce adesso nei guai il paziente all'epoca aveva 13 anni quando fu almeno secondo l'accusa abusato da questo medico allora la pagina a pagina 7 ma c'è anche un richiamo in nazionale del resto del carlino racconta questa vicenda questa vicenda di questo 13enne che accusa un noto psichiatra abusava di me nei suoi studi e in auto diceva che dovevo accettare la mia omosessualità chiesto rinvio a giudizio tutti particolari in questa in questa pagina è una vicenda che nasce dai problemi di un 13enne che è taciturno non ha amici a scuola non risponde i genitori si rivolgono ad una psichiatra del pesarese e gli affidano il loro figlio il medico convince il giovane di accettare la sua condizione di essere gay poi a un certo punto il medico e il ragazzo hanno rapporti sessuali poi il giovane dopo un paio di anni capisce di essere etero gli piacciono le donne e di essere stato usato e abusato dal medico e dunque parte la denuncia e partono anche le indagini fabbricate la bambola voodoo questo è il titolo del resto del carlino halloween shock per i bimbi al museo pesaro i genitori insorgono un modo di incitare al bullismo i bambini sotto gli 11 anni potranno partecipare a questa festa terribile aggiungo io organizzata dai musei civici di pesaro oltre alle esperienze da brivido l'amministrazione pubblica ha promesso una bambola voodoo in regalo ovviamente nessun rito vero il feticcio di pezza che faremo si ispira ad un libro ma sono arrivate davvero una raffica di mail di protesta nel tatto pomeriggio di ieri sono partite tutte la volta dell'assessorato pesarese insomma qui c'è tutta una sorta di racconto di quello che è successo anche sui social in particolare dove appunto in tantissimi hanno 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 chiesto insomma hanno attaccato questa iniziativa problema che in italia quando succedono queste cose quando tutti si mettono a protestare al posto di ottenere qualcosa di buono si ha l'effetto contrario cioè gli si fa pubblicità e quindi adesso chissà quanta altra gente magari faranno due giornate al posto di una per come stiamo messi comunque anche sul sul corriere adriatico la pagina di pesaro ecco il titolo con tanto di fotografia bambini a lezione su come costruire una bambola voodoo genitori indignati poi dopo non vi lamentate se i figli hanno problemi se cominciano a succedere cose perché poi dopo le cose si vanno a cercare in questo senso poi quando si gioca col fuoco ci si scotta Halloween proteste per il laboratorio del museo la replica solo ironia i posti già tutti esauriti e insomma io poi la chiudo qua direi state lontani il più possibile da queste stupidaggini l'assessore vimini mi sembra una polemica da buon di motta e bravo vimini che ha capito tutto dalla vita allora impianti sportivi serve una svolta siamo sulla pagina di fano l'assessore caterina del bianco occorrono subito più risorse la rivoluzione nella gestione degli impianti sportivi o più soldi all'assessorato per lo sport dice la del bianco si tratta di un momento molto delicato è chiaro che non se non ci sarà una presa di coscienza di tutta la maggioranza questa volta l'assessore non rimarrà ferma l'insufficienza di risorse economiche soprattutto mancano i soldi per intervenire nelle strutture sportive comunali a fano siamo passati da 500 mila euro di cui disponeva il mio predecessore fino al 2014 sottolineo del bianco agli attuali 300 mila euro è chiaro che con tutti con 300 mila euro non è che si fa il granché fallisce la mediazione invece del sindaco di fano seri per quanto riguarda l'esclusione dell'orchestra sinfonica rossini solo promesse per il futuro confermata l'esclusione dunque dalla bohème in programma per compensare si è supposta una collaborazione con la nuova fondazione lirica scontro su tutto a fossombrone anche sulle maestre d'asilo il clima tra minoranza e maggioranza è sempre più più teso abbattute le baracche di rom al cimitero l'avevano costruite di fianco al deposito della sapil ieri c'è stato l'intervento con la ruspa da urbino il cimitero di monte polo crolla sotto i nostri occhi gambini i lavori si faranno da febbraio 2018 protesta la cittadina coles e queste sono le immagini pubblicate sul quotidiano apriamo adesso il core adriatico core adriatico anche qui in apertura bambole voodoo lezione al museo protesta nei genitori ma è sold out cioè tutto esaurito laboratorio per bambini ad halloween la replica degli organizzatori che dicono è soltanto ironia strage di pini per la nuova via mancini ne saranno abbattuti 44 nel 2018 belloni l'assessore pesaresi dice nessuna violenza alla natura e anche sulla pagina 2 vedete la fotografia della via dei pini marittimi che sono stati tagliati 44 pini per la nuova via mancini il comune ha deciso stanno danneggiando la carreggiata operazione al via nel 2018 piazza redi siamo sempre a pesero lavori notturni per ritornare ad essere belli scritte ripulite strade sistemate ora mancano i portici tredicenne in fuga ritrovata a tavuglia qui avevo visto la moto gp con papà scappata da milano dopo un litigio con i genitori ha viaggiato prima in treno e poi in taxi fino al paese di valentino rossi la pagina di fano del corriere il pd sullo sport alza l'asticella manutenzione e nuovi impianti il segretario pucci chiede un confronto con gli assessori e risorse in bilancio e poi ancora per la bohème contratti contratti già firmati l'orchestra rossini era impegnata la rete lirica replica salucci coinvolgeremo tutte le valide realtà artistiche e ancora dalla valle del cesano il sindaco ora dimentica chi ha lavorato per lavoraggine siamo a orciano terre roveresche l'opposizione invita sebastianelli ad attendere l'esito delle indagini si impegnò per il bene comune la comunità deve dirgli grazie don filippo all'esequie dell'ex sindaco aldo bucarelli toccante la lettera delle figlie e poi senigallia nessuna nessuna paghetta ai volontari post noi non siamo politici comitato di protezione civile non piace l'idea di un gettone meglio rimborsi o aiuto alle associazioni e poi sempre dalla coriere adriatico questa volta questa fotografia si tratta di alessia morani finita nel mirino dei social il titolo del corriere è morani con la borsa di prada quindi una borsa che minimo costerà non so quanti centinaia di euro linciaggio social sono abituata dice lei non ho paura e querelo tutti la foto della parlamentare pd sul treno di renzi ha scatenato gli atter e è un regalo di mia madre 600 euro all'outlet e fortuna che era l'outlet altrimenti costava il doppio ma finiamo con questa fotografia guardate questa foto che è pubblicata questa mattina su senigallia dibattito social sul rattoppo alle buche del cimitero quindi siamo a due passi dal cimitero due passi da pochi giorni da dalla dai santi dai morti chi ci vedete su questa foto questa è una foto sulla strada gli operai del comune di senigallia chiudono le buche con barcino e catrame non volendo guardate che cosa viene fuori che immagine viene fuori secondo voi chi rappresenta questa immagine a chi assomiglia a questa immagine a chi assomiglia riccardo vediamo un po se lo sai adesso mi metti un po in difficoltà così va beh si vede dai si vede alla grande gesù esatto molto di qui ecco non aver paura dillo grazie la sedia stampa finisce qui noi ci rivediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale 338 49 68 250 se avete segnalazioni da farci grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata attenzione e buon proseguimento di giornata